Queste sono quelle di stanotte, queste erano quelle che trovai nel prato perché cadeva asciutta prima, non c'era acqua, venivano giù delle pallate così. Stanotte è ingrandinata come sassate, palle da tennis della dimensione, cadute asciutte senza pioggia inizialmente, poi in mezzo alla pioggia, di taglio per cui grande potenza, da rompere cristalli e vetri, tetti fotovoltaici. Stiamo facendo la raccolta dei danni, abbiamo attivato il piano di protezione comunale per capire effettivamente i danni alla popolazione, non ci risultano oggi danni alle persone, ma sicuramente tanti danni agli edifici e alle autovetture. Anche come comune abbiamo avuto dei danni e stiamo cercando di capire come è meglio intervenire. Grazie.